Un girone, secondo me, competitivo dove non dobbiamo pensare che troveremo terreno fertile. Sarà molto duro, anche andare a giocare in Sardegna a livello logistico non è così facile. Quindi ci aspetterà una grande competizione. Oggi sono arrivati due under, Patrignani, 99, terzino destro dall'Imo Lese e 98, Tribuzzi, ex Latina. Sono qui con noi, adesso vedremo in questi giorni, penso che a breve poi con la società ufficializzeremo qualcosa. Quindi stiamo proseguendo con la nostra attività quotidiana di lavoro. No, Costantino è un tesserato di una società di Serie C, ha un futuro importante di fronte a lui, anche legato forse a gennaio di una Serie B, quindi non penso che possa venire da Avellino.